Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Grave lutto a un posto al sole, la notizia. Appena arrivata ha sconvolto il cast e tutti i fan della SOP. La serie, grande successo della fine degli anni 90, è seguita ancora oggi da circa 2 milioni di spettatori di tutte le fasce d'età. Conta 27 stagioni e, attualmente, 6.015 puntate e tantissimi attori. Tra i più famosi, presenti dalla prima puntata Raffaele Giordano e Renato Poggi, interpretati rispettivamente da Patrizio Rispo e Marzio Onorato. Domani, venerdì 21 ottobre, la serie compirà 26 anni dalla trasmissione del primo episodio. È morto Wayne Mark Doyle, ideatore della storica serie. Un posto al sole, la prima SOP opera interamente prodotta in Italia e realizzata dal centro di produzione TV Rai di Napoli. Mark Doyle, prima di morire, ha voluto pubblicare un ultimo messaggio, una lettera d'addio, indirizzata a tutti quanti i suoi collaboratori, in cui scrive. Ridere spesso e tanto, conquistare il rispetto di persone intelligenti e l'affetto dei figli, guadagnare l'apprezzamento di critici onesti e sopportare il tradimento di falsi amici. Lasciare il mondo un po' meglio, sia con un figlio sano, un piccolo giardino o una condizione sociale riscattata, sapere che anche una sola persona ha respirato meglio perché hai vissuto. Questo è avere avuto successo. Ciao amici miei, è stata una splendida giostra. Wayne Mark Doyle. Non ci sono dettagli sulle cause della sua scomparsa, ma il messaggio per salutare i suoi collaboratori, fa immaginare che ci fosse una malattia. E che lui si stesse preparando al drammatico momento con un saluto a tutti i suoi amici più fedeli.